Il Grotta batte la concorrenza delle altre pretendenti e si assicura l'ex San Tommaso Fabio Leruzzo, oltre 70 reti in carriera. Il calciatore di Atripalda è cresciuto nel settore giovanile del Siena. Nella sua carriera vanta più di 75 presenze in Serie C2 con le maglie di Fondi e prova stese, più di 220 presenze in Serie D tra le fila di Grottaie, Pomigliano e Battipaiese, Olimpio Agnonese, Sarnese e Agropoli, oltre alle esperienze in eccellenza con Serino e Virtus Savellino, lo scorso anno ha giocato con il Santo Maso nella storica avventura in Serie D. Colpo anche per l'Alta Villa che si è assicurato Giuseppe Cuciniello, per lui esperienze importanti con il Savellino, Cavese e il Santo Maso dove ha vissuto una scalata impressionante e rilettante, arrivando nella massima serie e disputando anche l'anno scorso un campionato importante con i Crifoni. Per Di Falco ancora un altro anno con il Mercogliano, il centrocampista classe 86 giocherà con la squadra del proprio paese, con lui confermati anche Cerchione e Renza. Tra i pali alla corte di Silano arriva invece Carmine Biondi con un passato nel giovanile dell'UE Savellino ed esperienze con Virtus Savellino, Boiano e Sernia.